Dopo l'esperienza vissuta con grande soddisfazione alla Cattedrale del Tindari, che ha raccimolato quasi 600.000 visualizzazioni, Flavia e la cantabanda dei Fratelli Marino ci propongono questa volta, da Alcara Lifusi una bella interpretazione dell'Ave Maria di Gounod. Le location questa volta sono state individuate in due importanti monumenti ecclesiastici, entrambi nella piccola comunità nebroidea, la Chiesa Madre e la Chiesa di San Pantaleone, da cui sono stati ripresi alcuni stucchi della Cappella del Crocifisso a beneficio degli appassionati. Ci abbiamo pensato un po', ma poi quando si cavalca un'idea per anni, arrivare a questo obiettivo diventa una cosa normale, diventa una cosa naturale, perciò questa per noi è considerata una naturale evoluzione di un progetto artistico perseguito per anni. Flavia, in questo brano hai dato il massimo delle tue capacità vocali, quando finirai di sorprendere? Beh, diciamo che sorprendere è sicuramente uno degli obiettivi che chi fa musica si prefigge, tuttavia non è l'unico, perché ci possono anche essere dei musicisti che sono dei bravissimi esecutori strumentali, ineccepibili dal punto di vista tecnico, eppure non riescono a trasmettere nulla. Quello che noi ci prefiggiamo invece con il lavoro che c'è dietro ogni esibizione, che va sia dall'accurata scelta dei brani che gli arrangiamenti, che alla fine, con cui cerchiamo sempre di dare sicuramente un tocco di originalità, è quello di suscitare qualcosa in chi ci ascolta, che sia l'arità, che sia gioia, ma perché no anche la nostalgia o la malinconia. L'importante è non suscitare l'indifferenza, per cui ogni volta che noi ci esibiamo e riusciamo ad ottenere questo risultato, provocare emozioni negli altri, ce ne torniamo a casa felici. Fruccionale Fruccionale Maria, Santa, Maria, Maria, Lugura, Novi.